Copyright 2024 Valerio Di Stefano Tutti i diritti di quest'opera sono riservati. È consentita la riproduzione con qualunque mezzo e la distribuzione di quest'opera anche in via telematica purché non a scopo commerciale, di lucro o di profitto. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume d'inchiostro. Massimo Bubbola una storia sbagliata. Quella porta era aperta solo per te. Ora vado e la chiudo. Franz Kafka davanti alla legge. Ho portato dentro di me questo libro per undici anni prima di darlo alle stampe ed evidenziare strutture e contraddizioni e incertezze sull'omicidio di Esther Pasqualoni, amica, confidente e persona universalmente stimata, avvenuto in un parcheggio laterale di Sant'Omero, Teramo. Spero che questo testo, ormai libero, la raggiunga e lo abbracci dovunque ella sia. Primo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Il giorno successivo Esther esce dall'abitazione di Fabrizio. I due notano che Enrico stazionava in loco. Enrico ci ha detto che stava passeggiando. Nonostante Esther fosse una donna di profonda cultura grande divoratrice di libri di cui era lettrice attenta, appassionata e metodica è ben difficile proprio a causa della disarmante semplicità del suo animo che abbia usato espressioni come stazionava e in loco. Ma l'allarme si era fatto sospetto di più cominciava ad avere, se non una giustificazione almeno una spiegazione oggettiva, un discontro diretto. Di Luca era lì e passeggiava e stava sfidando i suoi diretti interlocutori che diventavano in quel preciso istante parte offesa. Vittime effettive e predestinate. E non è un caso che in questo passaggio si parli al plurale. Le circostanze della morte di Fabrizio avvenuta sei mesi prima della uccisione di Esther non sono mai state del tutto chiarite se non attraverso referti medici che la attribuiscono alla patologia cardiaca da cui l'uomo era affetto. La vicinanza temporale delle due morti più che un sospetto documentale offre il destro a un pettegolezzo una diceria, un non fatto alla nebbia all'indefinito e impalpabile all'incertezza dunque all'oblio ma Enrico de Luca passeggiava e passeggiare non è un reato. Secondo L'unica cosa certa di questo libro di nebbia è che Esther Pasqualoni medico oncologo 55 anni è stata uccisa a colpi di arma da taglio al torace e alla gola nel parcheggio dell'ospedale Val Vibrata di Santo Mero in provincia di Teramo il 21 giugno 2017 e che ad ucciderla sia stato il 69enne Enrico de Luca già investigatore privato suicida poche ore dopo e niente altro. Tutti gli altri elementi di questo scarno e da ghiacciante dato oggettivo si perdono in un contesto nebuloso e incerto anche quando si tratta di elementi di fatto e le indagini preliminari vengano acquisite a documentazione a prova approvata di un procedimento giudiziario che non c'è mai stato. Il caso ha avuto una notevole risonanza mediatica arrivando sulle pagine sempre un po' sonnacchiose di una nera malconcia e pasticciona dei quotidiani nazionali e passando da servizi e approfondimenti della televisione di Stato. Ma facciamo un passo indietro. Il 24 gennaio 2014 stando a quanto riferisce il quotidiano il messaggero in una esclusiva Esther si reca al commissariato di polizia di Atri per sporgere un esposto contro il di Luca ipotizzando il reato di Stolking. Esther ha da almeno un anno e mezzo un nuovo compagno Fabrizio dopo essersi separata dal marito nel 2008 e premette vivo in una grande ansia oltre che per la mia incolumità anche per quella dei miei due figli. Tutto è concentrato nella dichiarazione di uno stato di inquietudine estrema che è una richiesta precisa e inequivoca di aiuto alle forze dell'ordine e per loro tramite alla magistratura inquirente. È un fiume in piena Esti così la chiamava affettuosamente il compagno con un delizioso diminutivo un po' alla tedesca. Racconta tutto precisa tutto e dimostra tutto e solo la sintesi verbalizzatrice di chi ha raccolto l'esposizione della sua sofferenza ha posto un limite a quello che dovette essere un vero e proprio flusso di coscienza. Si sa che la magistratura inquirente e quella giudicante vedono di cattivo sguardo le esposizioni troppo lunghe e dettagliate dei fatti e la normativa riguardo ratificata con la stessa riforma cartabia è lì a dimostrarlo. La generica asetticità del linguaggio forense e burocratico tuttavia non impedisce di cogliere e in maniera oggettiva il tormento della vittima. Nell'estate del 2005 ho conosciuto Enrico perché quest'ultimo si era sottoposto a una visita specialistica. Fra noi è nato un rapporto di profonda amicizia. Enrico si è sempre comportato bene. L'ho introdotto nella mia famiglia di origine. Lui con i suoi modi gentili e garbati si è fatto apprezzare da tutti. E inoltre nel frattempo mi sono anche vista sempre a casa dei miei genitori con Enrico. A novembre 2013 ho deciso di confidare ad Enrico che frequentavo da un po' Fabrizio e che con lui avevo instaurato una relazione sentimentale. In un primo momento mi è parso che Enrico abbia capito e accettato la mia nuova relazione. Gli ho detto che a lui ci tenevo molto e che in quanto amico volevo continuare a vederlo. Le premesse del crimine e dell'azione omicidiaria dunque si presentano Esther con modi gentili e garbati. L'assassino si fa benvolere e atteso l'apprezzamento della famiglia di origine qualcosa nel di Luca era senz'altro scattato. Un sentimento non corrisposto che doveva aver travalicato i confini e gli steccati naturali di quella amicizia Esther ripete questa parola due volte nei brani riportati quanto meno preziosa per lei al punto da voler chiarire con quello che sarà il suo futuro assassino che stava vivendo una relazione sentimentale da cui si sentiva gratificata e felice pur non volendo rinunciare a continuare a vedere il di Luca mantenendo tuttavia una dimensione relazionale che doveva aver cominciato fin da subito a creare nel carnefice uno stato di inquietudine e di disapprovazione profonde nonostante la stessa Esther avesse parlato di una accettazione e di una comprensione iniziali ma sempre seguendo il percorso narrativo e spazio temporale dell'articolo del messaggero dopo alcuni giorni lo stalker le invia una mail di cui Esther riferisce per sommi capi il contenuto mi scriveva che era rimasto deluso che si sentiva offeso e ingiustamente messo da parte dopo che per nove anni mi era stato sempre vicino la nebbia comincia ad alzarsi proprio in questo punto quello in cui i contorni diventano meno nitidi meno visibili più incerti si sente messo da parte il di Luca e vive la relazione con Esther come una vera e propria ingiustizia nei suoi confronti come se qualcosa gli fosse stato comunque dovuto come se l'affetto profondo per non dire l'amore che provava per lei fosse oggetto di contrattazione e di scambio il do ut des che rivela la situazione patologica della sua concezione di relazione e di voler bene io non ho bisogno di te perché ti amo ma ti amo perché ho bisogno di te una concezione del legame di coppia che molti psicologi di maniera definirebbero tossica e questo doveva saperlo Esther che da medico conosceva dettagliatamente le sintomatologie di uno stato patologico ed era allenata a individuarle ed evidenziarle è proprio qui secondo il racconto di Esther che si snoda come in un bivio la vicenda che la porterà a morire è una donna pratica Esther sia pure contraddistinta da un carattere dolcissimo e da una semplicità esteriore ed interiore quasi spartana ha visto pazienti morire in continuazione e tanti ne ha salvati per questo non risponde al suo aggressore con lo stesso mezzo telematico e preferisce affrontarlo al telefono per quello che pensava fosse un chiarimento definitivo gli ho spiegato che lui per me era una persona importante ma che fra noi oltre all'amicizia non poteva concretizzarsi null'altro lo si legge negli atti e lo sottoscrive ma Esther fa di più integra il suo racconto riportando tra la numerosa ed abbondante documentazione in suo possesso un messaggio di testo ricevuto il 29 novembre dell'anno precedente sei il mio primo pensiero del mattino non buttiamo questi ricordi tutto quello che ci ha legato fino ad oggi giorni belli o brutti che abbiamo trascorso insieme ogni giorno che passa vedo sempre più buio totale intorno a me sto sempre più male dammi un vero segnale che mi vuoi veramente bene e saprò attendere con pazienza nulla è cambiato TVB è in questo scritto che si rivela la vera essenza fanciullesca e al contempo ossessiva dei sentimenti del di Luca il primo pensiero del mattino si dedica alla persona amata non a chi riveste carattere di amicizia eppure lo dice sfruttando una immagine trita e ritrita che per lui doveva avere senza dubbio un significato originale e personalmente rielaborato è vero che un adolescente dice ti amo con estrema facilità quando non addirittura con facile oneria ma è anche vero che in quel momento sente l'amore a modo suo con i suoi limiti ma lo sente l'amore negato e conseguentemente impossibile crea il senso dell'oscurità vede sempre più buio totale il diluca il buio è certamente un'immagine efficace della patologia della psiche più diffusa il disorientamento e il diluca afferma di stare sempre più male e non a caso chiede un segnale un punto di riferimento da cui ripartire o una conferma se si vuole ben vedere e termina la sua immatura e fanciullesca missiva breve con il classico TVB che non fa altro che domandare un bagliore nel buio della notte intrisa di nebbia in cui il suo animo era sprofondato terzo la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale personalmente o a mezzo di procuratore speciale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato articolo 336 codice di procedura penale la querela rappresenta una tipica condizione di procedibilità senza la quale l'azione penale nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità querela di parte e non d'ufficio non può essere esercitata studio Broccardi annotazione all'articolo 336 codice di procedura penale quarto non esiste in Italia e in molti altri paesi giuridicamente evoluti il concetto di giustizia così come comunemente tradizionalmente inteso esiste solo la legge e la legge sa e può essere profondamente ingiusta nel senso di non garantire al cittadino il pieno rispetto dei propri interessi economici morali e personali la legge da sola non è sempre sufficiente a fare in modo che chi ha subito un torto veda ristabilire l'equilibrio necessario a commisurare il danno ricevuto da una ipotesi di reato successivamente accertata come effettivamente verificatasi da un giudice terzo e le sanzioni che ne conseguono per cui esiste una indubbia crasi tra gli eventi che si sono verificati i contenuti delle carte in mano agli inquirenti e il bisogno di Esther di ottenere aiuto dalle istituzioni Esther cercava protezione tutela cura giuridica del proprio stato psicologico sempre più disagevole per lei i suoi figli e il suo compagno ma si è imbattuta nella legge che agisce in base alle condizioni oggettive e all'evidenza di ciò che risulta dalle carte e il primo documento rilevante e perfino decisivo nel suo calvario umano e giudiziario è esattamente quello che contiene le sue stesse dichiarazioni da lei sottoscritte è estremamente probabile che non sia stata Esther a redigere quell'atto e che a farlo sia stato l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha raccolto il suo racconto orale per tradurlo contestualmente in un documento più succinto e misurato nell'esposizione rispetto alle scarne esigenze narrative dell'amministrazione della giustizia già è stato fatto cenno nelle considerazioni precedenti alla non corrispondenza del linguaggio così come messo a testo con quello abitualmente usato da Esther di cui pure vengono riportate diverse dichiarazioni fatte in prima persona l'aspetto che si impone anche solo agli occhi di un lettore pigro o disattento è che Esther per il procedimento che propone non è accompagnata da nessun legale di fiducia che la rappresenti nel caso niente affatto improbabile in cui in qualità di persona offesa da una ipotesi di reato avesse dovuto ricevere comunicazioni relative all'instaurando procedimento o la facoltà di costituirsi parte civile in esso perché? perché l'intenzione di Esther è quella di chiedere protezione ed aiuto arrivare a fermare l'azione persecutoria nei suoi confronti e fare in modo che il suo Aguzzino non ricevesse alcuna condanna alla fine del dibattimento relativo al processo che avrebbe dovuto subire non certo fargli del male dunque perché non era certo proprio del carattere di Esther volere il male di nessuno era una persona profondamente sensibile e comprensiva Esther lo dimostra soprattutto la sua incessante disponibilità giorno e notte anche al di fuori dei suoi orari di servizio in ospedale già notevolmente dilatati ma la normativa in vigore prevede che le condotte relative al reato di stalking articolo 612 bis codice penale nelle ipotesi di base e altri comportamenti ad esso connessi o assimilabili siano perseguibili a querela di parte e non di ufficio in sostanza né il pubblico ministero né il giudice terzo possono agire in alcun modo se la vittima di persecuzioni non manifesta e in maniera espressa ed inequivoca la sua volontà che il responsabile venga punito se colpevole o comunque sottoposto a indagine giudiziaria che tecnicamente può concludersi anche con una richiesta di archiviazione da sottoporre al vaglio del giudice per l'udienza preliminare ma Esther non ha firmato nella sua segnalazione alle autorità nessuna proposta di formale querela neanche inserendoci le formule di rito secondo cui si sarebbe potuto richiedere che il delitto di stalking venisse espressamente dunque anche nei fatti perseguito non chiede neanche la persecuzione dei reati eventualmente ravvisabili dalle circostanze esposte o che dovessero emergere dalle successive indagini dunque la conclusione degli esiti del fascicolo era inevitabile richiesta di archiviazione per difetto della condizione di procedibilità ovvero della querela e questo aspetto è molto ben chiarito dalle motivazioni adotte dal pubblico ministero Irene Scordamaglia del tribunale di Teramo Tuttavia non si può evitare di notare e sottolineare come se da una parte le motivazioni tecniche non lasciano adito ad alcun dubbio dall'altra nelle suddette motivazioni appaiono dichiarazioni messe a testo che aprono il campo ad alcuni punti non chiariti e che destano più di una perplessità le indagini delegate in ordine alle presunte riprese hanno permesso di accertare che quanto riferito dalla persona offesa non corrispondeva al vero poiché nei video esaminati non vi era la presenza di fotogrammi che immortalavano la Pasqualoni è fuori di dubbio che il solo fatto che un soggetto non sia stato ritratto da rilevare l'uso del verbo immortalare in una ripresa effettuata da videocamere di sorveglianza pubbliche o private non significhi affatto che lo stesso non sia passato per quella zona a quell'ora in quella data e in quelle circostanze e che le riprese se esistevano nei fatti se non ritraevano ester non è detto siano state necessariamente presunte viceversa si sarebbe potuto evidenziare che non esistevano o non erano a disposizione della procura inquirente né men che meno che quanto da lei riferito non corrispondesse al vero la differenza tra i due ragionamenti non è neanche così sottile come sembra a prima vista se chiunque sia oggetto di indagine in qualità di possibile responsabile di un reato o di vittima di esso non compare sulle riprese registrate dalle videocamere sul cosiddetto locus commissi delitti ciò dimostra solo che quel soggetto non è stato ripreso non che in quel luogo non ci sia mai stato né che ciò che dichiara nelle sue esposizioni non sia da considerarsi veritiero solo per questa circostanza non può crollare anche solo la mera esposizione dei fatti soltanto perché una videocamera ha un raggio di azione di sorveglianza comunque limitato o perché un presunto responsabile qualsiasi è stato sufficientemente scaltro da passare dove la telecamera non lo poteva immortalare l'atto proposto da Esther era del gennaio 2014 la richiesta di archiviazione è stata effettuata il 30 ottobre successivo ma la figura di un legale dopo l'uccisione di Esther si palesa già pochissime ore dopo il ritrovamento del cadavere di quello che era e rimarrà il presunto assassino della dottoressa Pasqualoni l'avvocato Caterina Longo rilascia una intervista televisiva al canale locale Super J Television non è interessante a questo punto di queste analisi parlare dell'impegno politico e partitico della Longo o degli esiti favorevoli e sfavorevoli a seguito della sua candidatura a diverse tornate elettorali per la lista politica della Lega Nord interessa piuttosto e questo sì molto analizzare riportandole alcune sue dichiarazioni a caldo rilasciate con comprensibile e devidente coinvolgimento emozionale il video dell'intervista è ancora liberamente consultabile in rete la Longo dice tra l'altro la dottoressa aveva denunciato in passato i comportamenti del suo assassino poi se vogliamo parlare di una formalità dell'utilizzo del termine denuncia nell'atto formale non c'era specifico e più avanti nell'atto che è stato redatto dalle forze dell'ordine non si legge querela non si legge la parola corretta non si legge l'intenzionalità esplicita ed espressa di sporgere formale querela o formale denuncia nei confronti di questo soggetto ma al contrario l'atto viene intitolato esposto di fatti viene richiesto alla fine e nelle ultime tre righe un ammonimento nonché subito dopo ora sfido chiunque cittadino comune non operatore del diritto a fare una distinzione quando va dinanzi alle forze dell'ordine nell'utilizzo dei termini denuncia querela esposto ammonimento se è vero come è vero che un comune cittadino può non avere chiara la differenziazione terminologica tra le varie richieste da proporre o la mere semplice enumerazione di fatti di cui era conoscenza è altrettanto vero che tale distinzione non sfuga agli stessi operatori del diritto dunque in primis alla stessa Longo che quell'intervista aveva rilasciato e che più avanti specifica quando nella denuncia perché io la chiamo così scusatemi la dottoressa aveva mostrato un sms in cui lui diceva non troveranno mai niente a casa mia di quello che ho su di te perché lo tengo ben nascosto ed in effetti Esther denuncia sì ma fatti circostanze allegando all'atto una documentazione che sarebbe riduttivo circoscrivere al testo di un solo sms ma questo non è certamente sufficiente a stabilire la sua volontà di veder perseguito il di Luca e con la sottoscrizione rafforzativa della richiesta di ammonimento rivela e rafforza l'intenzionalità di cui si è già parlato di passaggio di voler evitare all'amico conseguenze penalmente ben più rilevanti dunque o Esther voleva effettivamente che venissero poste in essere le misure che aveva richiesto firmandole oppure si potrebbe essere trattato in mera ipotesi della conseguenza dell'operato di cui quella denuncia l'aveva raccolta che avrebbe fatto sì che una querela intenzionale venisse trasformata in un esposto questa ipotesi viene qui contemplata per dovere di completezza ma non perché la si possa valorare in alcun modo le nebbie si stratificano si inglobano l'una con l'altra si sovrappongono in un crescendo di disorientamento e sconcerto non vi è più il senso di una direzione quanto meno giudiziaria e se ve ne una è quella del corretto nulla di fatto tecnico per vizio di forma che è sempre e soprattutto anche un vizio di sostanza il filmato reca come descrizione parla l'avvocato e amica di Esther Caterina Longo maiuscole comprese per cui l'interpretazione è univoca Caterina Longo era al contempo sia amica che avvocato di Esther ma all'utente finale non è dato sapere né intuire in quale veste parli se in quelle di legale di fiducia della vittima deputata quindi a raccoglierne le istanze originali e secondo esse a rappresentarla e difenderla o nella veste più strettamente amicale e di confidenza a complicare il rebus contribuisce e in maniera ulteriore il montaggio del servizio al minuto 0 e 35 secondi la macchina da presa stacca dall'immagine della Longo per soffermarsi in maniera molto breve e quasi impercettibile sull'immagine di un dito che sottolinea il contenuto di un documento giudiziario ma il documento in questione non è l'atto verbalizzato dalla deposizione orale della Pasqualoni comunque lo si voglia chiamare e qualunque conseguenza esso comportasse si tratta al contrario di un verbale redatto dal comando dei carabinieri presso la stazione di Roseto degli Abruzzi e non quindi presso la questura viciniore di Atri presso cui si era recata Esther per esporre la sua richiesta di essere preservata nell'intimità dei suoi affetti e che riguarda un sequestro operato presso il domicilio di Enrico Di Luca su iniziativa così si legge dal fermo immagine del procuratore generale e operato il 5 aprile 2014 all'indagato che non avrebbe mai indossato le vesti di imputato veniva sequestrata una videocamera e del materiale accessorio nella fattispecie una scheda SSD atta secondo quanto si intuisce a incutere timore nella vittima e nel suo compagno nel documento si apprende inoltre una circostanza ulteriormente inquietante che non solo non riesce a dissipare alcuna nebbia sul già incerto caso delle persecuzioni operate nei confronti di Estere di Fabrizio ma pone un successivo interrogativo su quanto la stessa Longo affermerà e con determinazione evidente di lì a poco ossia che si procedeva per l'identificazione di una persona colpita da ammonimento per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna Pasqualoni Ester seguono i dati anagrafici della vittima per cui là dove sia Ester che l'avvocato Longo ribadiscono con forza l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di relazione affettiva o sentimentale tra vittima e carnefice alla stazione di Roseto degli Abruzzi si mette nero su bianco che Ester sia stata la ex compagna del Di Luca forse raccogliendo e trascrivendo sia pure in sintesi estremamente succinta le dichiarazioni dell'indagato ma questo nessuno potrà mai saperlo ma ciò che getta ulteriore sconcerto e spaesamento nell'analisi della semplice epigrafe introduttoria al verbale è che si apprende che il pervenuto sarebbe stato colpito da ammonimento per atti persecutori dunque che quanto richiesto nell'atto originale di denuncia sia stato effettivamente combinato prima ancora della richiesta di archiviazione avanzata per vizio di forma e mancanza di querela dall'ufficio del pubblico ministero e così è stato alla fine del mese di gennaio 2014 la nebbia impalpabile e scialba nasconde le cose lontane quinto salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104 ovvero con armi o da persona travisata il delitto è punito a querela della persona offesa il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi la remissione della querela può essere soltanto processuale la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612 secondo comma si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 numero 104 nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio articolo 612 bis codice penale in tema di atti persecutori ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 612 bis comma secondo codice penale la relazione affettiva tra autore del reato e persona offesa pur se non intesa necessariamente soltanto come stabile condivisione della vita comune postula quantomeno la sussistenza da verificarsi in concreto di un legame connotato da un rapporto di fiducia tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione costituendo l'abuso o l'approfittamento di tale legame il fondamento della razio di aggravamento della disposizione in esame Cassazione penale sezione quinta numero 21641 2 marzo 2023 Sesto il reato di atti persecutori fu introdotto nell'ordinamento penale italiano nel 2009 a seguito dell'approvazione di un decretto legge del 23 febbraio successivamente convertito in disposizione vera e propria il 23 aprile si tratta di un dispositivo piuttosto articolato e complesso che non si limita nella forma e nella sostanza a introdurre semplicemente una nuova fattispecie di reato ma che prevede una serie di misure anche di prevenzione affinché ciò che potrebbe condurre all'instaurazione di un vero e proprio procedimento sanzionatorio in sede penale possa trovare misure alternative e meno afflittive per l'indagato imputato legge complessa si diceva ma che stabilisce un punto cardine fondamentale lo stalking almeno nelle sue forme più lievi viene di base punito su querela di parte occorre dunque e lo si ribadisce ancora che la vittima manifesti la precisa volontà che il denunciato venga processato e se riconosciuto colpevole condannato senza questo requisito non si può procedere a meno che non ricorrano i presupposti o le condizioni per la procedibilità d'ufficio l'articolato che prevede l'inserimento del testo riportato nel capitolo precedente nel codice penale ovvero la sua modifica è stato numerato con il 612 bis si tratta a dire il vero di una estensione di quanto previsto dal semplice articolo 612 in tema di molestie punite in forma meno afflittiva e con sanzioni minori data la gravità della condotta e delle sue conseguenze sull'individuo l'iter che ha portato il dispositivo di legge alla sua attuale applicazione nonché alla sua applicabilità non è stato certo dei meno trottuosi e imbarazzanti se da un lato è vero che se procedibili a querela di parte molti reati non vengono di fatto puniti e che questo contribuisce ad alleggerire il carico di procedimenti pendenti nell'amministrazione del diritto dall'altro è innegabile che in pratica e nella realtà le procure sono intasate di fascicoli anche a carico di ignoti che ne rallentano in maniera significativa e a tratti paurosa il funzionamento e si tratta solitamente di reati puniti con pene lievi il problema dell'eccesso di carico è stato affrontato in maniera anche condivisibile dal legislatore soprattutto ed è ciò che qui interessa maggiormente da vicino con l'introduzione di alcune possibilità a disposizione dell'imputato che estinguono il reato e che fanno morire il processo se non addirittura prima di cominciarlo almeno nelle sue battute iniziali e comunque prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento una di queste possibilità è sicuramente l'istituzione della cosiddetta condotta riparatoria ad esempio in un caso di diffamazione aggravata che si è perfezionata online se l'imputato dimostra di aver esarcito la vittima e di aver eliminato nei limiti del possibile tutti gli elementi costitutivi del suo comportamento ad esempio cancellando il contenuto suppostamente lesivo il giudice può dichiarare estinto il reato e conseguentemente disporre il non luogo a procedere perché senza reato non ci può essere processo questo istituto è valido esclusivamente per i reati perseguibili a querela di parte per cui se tizio provoca delle lesioni colpose a qualcuno guaribili in meno di venti giorni può accedervi in quanto il fatto rientra nel novero delle possibilità ma è chiaro che se tizio rapina una banca non potrà vedere il suo reato estinto neanche se restituisce immediatamente quanto sottratto non si tratta di una questione di gravità della pena o di percezione sociale del reato ma di pura e semplice procedibilità il reato di violazione del diritto d'autore ad esempio se tizio passa a Caio un file musicale protetto da diritti anche se enormemente meno grave rispetto a quello di stalking basti pensare che la pena massima prevista dalle leggi è ridotta di oltre la metà e anche se la condotta viene considerata come pressoché inoffensiva dall'opinione pubblica il classico lo fanno tutti è punito d'ufficio e ha scarse possibilità di sfuggire al processo mentre per lo stalking cosiddetto semplice occorre la querela di parte è certamente una stortura del diritto chi copia di frodo un cd o un software rischia concretamente chi manda 100 sms al giorno a una persona può farla franca e non essere punito o meglio ha potuto farla franca e per ben otto anni perché lo stalking essendo stato contemplato nel calderone dei delitti punibili a querela dal 2009 al 2017 rientrava di fatto tra i delitti per cui poteva essere ammessa la condotta riparatoria quella che non solo evita la pena in caso di colpevolezza ma addirittura non permette se il giudice la riconosce che il processo vada avanti ed è successo che il Parlamento italiano se ne sia completamente dimenticato e si tratta di un elemento di gravità straordinaria non solo perché arrivare a querelare il proprio persecutore costituisce in genere nella vittima un ulteriore stato di prostrazione psicologica si pensi al tormento che può patire una vittima nel denunciare il proprio coniuge magari padre o madre dei propri figli il proprio ex compagno o perfino il coniuge separato o divorziato ma perché è vero che dal 2009 al 2017 molti processi sono morti sul nascere proprio perché gli imputati hanno beneficiato di questa possibilità e in fondo non hanno fatto altro che avvalersi di un dispositivo di legge per quanto sconveniente a giudizio della pubblica opinione il 4 dicembre 2017 la legge stabilisce che le disposizioni dell'articolo 162 ter del codice penale non si applichino al reato di stalking fine della storia certo ma pietra tombale per il pregresso nullum crimen nulla pena ma come si diceva vi è di più in un comunicato stampa della camera dei deputati diramato in concomitanza con l'approvazione delle norme si chiarisce che le stesse oltre a modificare il codice penale introducono la possibilità per la persona offesa dal delitto fino a quando non è proposta querela di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta apportano una serie di modifiche al codice di procedura penale tra le quali spicca la previsione della nuova misura coercitiva del divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevedono l'obbligo per le forze dell'ordine i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture repressione dunque ma anche prevenzione assistenza e aiuto per le vittime lo stesso che cercava Esther e che non ha mai ottenuto l'ammonimento è un atto che viene adottato dal questore e non dal giudice di merito solitamente consiste nel divieto coercitivo di avvicinamento o di frequentazione degli stessi luoghi in cui normalmente dimora o lavora la vittima per questo Esther si rivolge alla questura quando espone tutto quello di cui soffre si tratta della sede immediatamente deputata e competente l'ammonimento sempre secondo il comunicato della camera dei deputati trova la sua spiegazione in quanto in considerazione della durata del procedimento penale che potrebbe non essere compatibile con le finalità di tutela delle vittime degli atti persecutori il decreto legge articoli 8 e 9 ha previsto strumenti di tutela che da un lato possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza e dall'altro potrebbero anche dissuadere lo stalker dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio in particolare l'articolo 8 ha introdotto una misura di prevenzione personale consistente nell'ammonimento del questore al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela infatti la disposizione anche che allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti introduce in particolare la possibilità per la persona offesa di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta la richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo il questore dovrà assumere se necessario informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti ove ritenga fondata l'istanza ammonirà oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge verrà redatto processo verbale copia del quale sarà rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito ma conclude il questore dovrà anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni quello che emerge chiaro è che secondo il verbale di sequestro redatto nei confronti del persecutore di Esther l'ammonimento sarebbe stato irrogato e che è stata sequestrata una videocamera che è stata con ogni probabilità uno strumento utilizzato per compiere gli atti persecutori esposti da Esther ma che non è un'arma o una munizione la nebbia si infittisce sempre di più l'unico rimedio per spazzarla via è la conoscenza dei fatti delle persone dei luoghi e delle circostanze ma questa conoscenza non esiste settimo sms sostantivo maschile sigla dell'inglese short message system sistema per i messaggi brevi nome di un protocollo informatico che permette di spedire attraverso la rete dei telefoni cellulari e pressoché all'istante brevi messaggi di testo detto anche familiarmente messaggino vocabolario della lingua italiana tre cani ottavo se fin qui si è parlato pressoché prevalentemente di carte e di contenuti di atti ufficiali non si può ad ora innanzi sottovalutare la dimensione emozionale emotiva umana e personale delle persone coinvolte ed è ancora il quotidiano il messaggero a pubblicare il 23 giugno 2017 in esclusiva i testi di alcuni degli sms che il di luca invia ad ester la testata giornalistica in vero compie una operazione di vera e propria collazione una sorta di sinossi testuale con i contenuti dell'esposizione della vittima di cui si è parlato nei capitoli precedenti e che nel testo dell'esclusiva giornalistica si danno per rilasciati in un commissariato svarioni che accadono va detto e a scanso di equivoci che tale esposizione sincronica non è omogenea si sa ad esempio che cosa il persecutore abbia scritto a ester ma non se lei gli abbia mai risposto tramite lo stesso mezzo né in caso affermativo che cosa si tratta anche qui di riferimenti agli atti del procedimento per il quale è stata richiesta all'archiviazione e nulla più ma è da ribadire e con determinazione che quello che è stato trasmesso alla pubblica opinione di questi atti è totalmente insufficiente a sgombrare la nebbia densa e ottusa che ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare i contorni giudiziario ed umano dell'intera vicenda e la nebbia si trasforma in buio quando si alzano le tenebre dell'animo umano e si resta obbligati a procedere a tentoni a cercare una strada una direzione un punto conosciuto che ci porti da qualche parte non importa se per tornare indietro o andare avanti il carnefice comunque comunica scrive esterna lo si è visto nel secondo capitolo e parla di buio descrivendo nel modo certamente meno contaminato dalle vicende umane e dalle interpretazioni i suoi sentimenti nei confronti della persona che amava perché ogni uomo uccide le cose che ama scriveva Oscar Wilde allo stile grossolano e financo adolescenziale di quello scritto si è già fatto riferimento non alle immagini che usa per fotografare il suo stato d'animo iniziale il buio è un fenomeno perfettamente naturale per questo è possibile definirlo incontaminato lo stalker parla ad Esther usando il linguaggio tipico della relazione amorosa che sente sfuggirsi tra le dita dice che saprà attendere con pazienza che estere il suo primo pensiero al risveglio di ogni giorno che non sa spiegarsi il perché tutti i ricordi del tempo trascorso insieme non siano più disponibili nel vissuto quotidiano ed il buio è totale è obnubilamento è negazione di quello che lo stesso avvocato Caterina Longo nell'intervista citata definisce in maniera forse un po' frettolosa come un film una finzione una storia di fantasia una realtà parallela e altra destinata a non incrociarsi neanche all'infinito e a non coincidere una finzione rafforzata e descritta dalla stessa Longo che dichiara che il di Luca si sarebbe addirittura finto paziente dell'oncologa Esther in questo è molto chiara sia pure attraverso lo scarno linguaggio burocratico che avvolge le sue dichiarazioni agli inquirenti nessuna relazione al di fuori di quella amicale e lo fa questo è certo ben prima che i carabinieri di Roseto degli Abruzzi ridigano il verbale di sequestro che li vorrebbe come ex compagni poi qualcosa nelle comunicazioni del di Luca così come cronologicamente riportate da il messaggero cambia comincia ad affacciarsi l'arma subdola del ricatto e i toni cominciano a farsi minacciosi se eri vera amica avresti accettato un dialogo non si chiude una storia di nove anni come si usa un fazzoletto non accetterò mai questa situazione che si è creata ho tutte le registrazioni sms che conservo scrupolosamente non è chiaro a cosa alluda il di Luca quando fa riferimento a delle non meglio precisate registrazioni sms ma è possibile che si tratti di copie di backup o di sicurezza della corrispondenza intercorsa corrispondenza che va detto viene inoltrata con ampio privilegio del mezzo telematico la lunghezza il respiro quanto meno di ciò che scrive di Luca non consentono ragionevolmente di stabilire se di veri e propri sms si sia trattato o di comunicazioni inoltrate attraverso sistemi di messaggistica successivamente disponibili e già abbondantemente utilizzati al momento dei fatti per i secondi la possibilità tecnica di accedere alle copie di backup o di realizzarle in proprio è molto più immediata per i primi no ma di Luca sa il fatto suo è stato un investigatore privato e conosce bene il suo mestiere ciò che viene alla luce quella luce che non ha mai rischiarato il buio interiore dell'assassino non è solo il ricatto ma addirittura l'arma attraverso la quale viene perpetrato e proposto la competenza informatica e telematica è come se di Luca si rivolgesse a Esther per dirle che su questa materia non solo non vuole ma non deve venire ingannato perché lui sa perché lui conserva scrupolosamente scrive ed è qui che la corrispondenza personale confidenziale e persino riservata anche se crudele dell'amico sormonta la vita e l'ansia crescente di Esther senza mai incrociarle mantenendo fino all'ultimo un perfetto parallelismo di Luca se ne accorge certamente e rincara la sua dose di furia rancorosa e ingiustificata scrivendo inoltre mi sono ritrovato la Digos dentro casa mi hanno sequestrato il porto d'armi e un fucile a scopo precauzionale spero vivamente che non c'è il tuo zampino e in un secondo messaggio se è una sfida lo sai benissimo che è la mia passione ed è a seguito di queste esternazioni del di Luca che Esther torna in questura due o tre giorni dopo a integrare la propria deposizione mettendo a verbale inoltre che il suo prossimo uccisore aveva inviato dei messaggi su facebook a una mia amica tra cui una foto che ritrae me e il mio attuale compagno in cui compariamo senza occhi da innamorato anche se non corrisposto a carnefice nono ogni morte ne richiama un'altra il clamore mediatico e politico che quella di Esther ha suscitato è stato di notevolissime dimensioni Esther non avrebbe certamente voluto che la sua persona venisse esposta con tanto rilievo esemplare non aveva neanche una fotografia sul suo profilo facebook e chiunque si sia consapevolmente dolosamente o colpevolmente appropriato della sua vicenda per interesse mediatico o addirittura politico si scontra se non si è già scontrato allora con la disarmante mitezza di Esther al di là della evidenza del carattere di notizia di tutto l'accaduto stride con la personalità di una donna che all'età di 53 anni ha lasciato due figli di 16 e 11 anni e che aveva costruito una vera e propria rete amicale per la loro cura e il loro accudimento per ritirarsi ogni sera a leggere o a curare qualche ragazzino in villeggiatura che nell'euforia delle vacanze si era quasi fracassato un ginocchio perfino il mondo dello spettacolo si è disturbato Adriano Celentano ingravescente metatem in un intervento pubblicato sul suo blog e riportato dal sito web dell'emittente televisiva locale abruzzese Rete 8 scriveva che la povera Esther viveva in uno stato di angoscia insostenibile perseguitata da mesi giorno e notte a niente sono servite le continue denunce alle forze dell'ordine sistematicamente archiviate perché purtroppo la donna era ancora viva ma ora che lei non c'è più finalmente la polizia potrà muoversi senza alcun indugio in modo seriamente determinante per poi proseguire immediatamente dopo e senza alcuna soluzione di continuità l'evidente sconquasso della politica non sarà dovuto al fatto che i governi una volta raggiunto il potere sognato non pensino altro che alla loro vana gloria anziché dare la priorità all'unica cosa davvero essenziale è la certezza della pena a cosa serve la crescita il posto assicurato se poi finita la giornata lavorativa esci e ti uccidono e a cosa serve il posto di lavoro se poi gli stessi lavoratori in tutti i settori non eseguono con coscienza il loro lavoro non è l'articolo 18 che difende i lavoratori se mai è proprio il 18 a creare una vera e propria schiera di scellerati perché i tanto vituperati padroni dovrebbero licenziare qualcuno se questo qualcuno fa il proprio dovere con coscienza non è vero che l'esempio viene dall'alto l'esempio quello vero in grado di correggere anche quelli in alto viene dal basso più uno stream of consciousness gioisiano che una attenta analisi dell'accaduto con un incerto riferimento a chi non esegue con cognizione e consapevolezza il proprio lavoro e poi la stampa la caratteristica comune a tutti i media giornalistici che si sono occupati dell'omicidio è quella della frettolosità la notizia deve uscire e subito bisogna battere la concorrenza essere primi sui motori di ricerca ottenere click like espressioni di gradimento vedere e possibilmente far vedere che il giornalismo c'è esiste se ne occupa a costo di contraddizioni evidenti a costo di svarioni di forma dunque di sostanza e di fornire indizi incerti se può apparire di scarso valore il fatto che l'aggressore si sarebbe allontanato a bordo di una Peugeot 204 bianca per gli uni mentre il modello della vettura era una Peugeot 104 per altri non è rilevante ad esempio che il Corriere della Sera metta a testo il pubblico ministero di allora decise di archiviare il fascicolo col consenso del GIP l'avvocato della dottoressa Caterina Longo non presentò opposizione mentre l'agenzia ANSA riporta aveva presentato due denunce contro il suo stalker ma erano state entrambe archiviate lo riferisce all'ANSA Caterina Longo amica di Esther Pasqualoni perché già solo queste due contraddizioni qui riportata esclusivo titolo di esemplificazione riportano alla domanda sull'effettivo ruolo della Longo nella difesa di Esther semplice amica o avvocato di fiducia oltre a offrire una sconcertante banalizzazione degli elementi fondamentali del diritto il pubblico ministero non decide un'archiviazione il pubblico ministero la chiede e il giudice che deve decidere non è il GIP ma il GUP e se la Longo ha parlato di due richieste di archiviazione secondo quanto riporta l'ANSA come mai nell'immediatezza del delitto parlando con i giornalisti fa riferimento a una sola delle due posizioni dell'indagato ma soprattutto se era il suo legale di fiducia come mai non è stata proposta alcuna opposizione e se gli atti viziati da mancanza di querela erano due e non uno chi è che li aveva redatti aborigine appena poche righe che non fanno altro che inspessire la nebbia che ci ha portato via Esther e sono centinaia le testate registrate che si sono occupate del caso e poi i social network che hanno raccolto il legittimo sfogo e dolore di chi Esther la conosceva molto bene ma anche una serie che si potrebbe definire con una certa sbrigativa faciloneria o superficialità infinita di contributi assolutamente irrilevanti ai fini della conoscenza che è l'aspetto che qui maggiormente interessa e rileva perché l'utente medio delle reti sociali non ha mai ben compreso che non sono soltanto gli organi di informazione a poter dare notizie ma che questa facoltà è addirittura un diritto inalienabile per qualunque cittadino con la non irrilevante differenza che l'emotività i sentimenti le emoticons il presenzialismo a tutti i costi l'esigenza di poter dire io c'ero la conoscevo non sono informazione si tratta di esternazione di compartecipazione a un dolore incolmabile e che non ha alcuna possibilità di lenirsi col trascorrere del tempo ma non sono un dato certo magari minimo ma almeno incontrovertibile come quando si è soliti rispondere a un'affermazione la paliziana con la frase questo è poco ma sicuro e invece nella vicenda che ci ha portato via Esther tutto questo è sicuro ma è poco davvero troppo poco ogni ipotesi ne ha richiamata un'altra in un crescendo di concatenazioni che non hanno trovato non solo soluzioni ma neanche risposte chiare univoche convergenti e certe così sui cosiddetti mezzi della comunicazione sociale si è assistito a una serie impressionante di estremizzazioni opposte tanto più opposte quanto più estreme perché se da un lato la Longo scriveva sul suo profilo Facebook quante volte sedute a ragionare di quell'uomo quel maledetto che ti perseguitava e non sono riuscito a risolverti questa cosa e me lo porterò dentro tutta la vita ti voglio bene donna e amica speciale ti voglio bene dall'altro non c'è stato nessuno che abbia mosso un filo di fiato e speso mezzo minuto del tempo della propria vita per Fabrizio il compagno di Esther per le circostanze della sua morte per tutto ciò che è stato nel supporto quotidiano e familiare alla vittima Fabrizio scompare sparisce non c'è la sua figura non esiste perché semplicemente tutto ciò che non appare sui social è di per sé inesistente e tutto ciò che esiste se e quando esiste deve comunque essere provato divulgato ed esibito la verità non esiste esiste solo quello che si può far vedere o mostrare sui social network non si può semplicemente scrivere sono bellissima bisogna pubblicare una foto fare in modo che possa essere vista e raccogliere una quantità sufficiente di apprezzamenti in modo che la viralità di quel contenuto lo confermi Esther non era tutto questo eppure la circostanza della sua morte è stata fatta propria da migliaia di utenti non solo per esprimere ma pur sempre pubblicamente ben inteso un personale dispiacere o un cordoglio ma per appropriarsi attraverso un pittogramma o una rielaborazione grafica di ciò che quell'evento poteva offrire loro e che è diventato il bene più ambito al giorno d'oggi la visibilità era il tempo della formazione embrionale dei primi cosiddetti influencer di cui ascesa e declino sono arcinoti a chiunque e che proprio dalle piattaforme più diffuse hanno tratto la linfa vitale per il loro sviluppo ma sarebbe un gravissimo errore di valutazione considerare i social network come un elemento cerniera e di interfaccia del privato per la propria percezione sociale facebook in particolare e non per caratteristiche proprie o peculiari bensì perché si tratta di una delle prime reti sociali che abbiano riscosso un ingente successo di iscritti dunque storicamente più consolidata ospita personaggi pubblici pagine di trasmissioni radiofoniche e televisive di bar ristoranti cinema e di una infinità di locali aperti al pubblico di enti pubblici numerosissime sono le scuole ad esempio pagine di scrittori scrittrici uomini e donne di scienza di arte di filosofia maestri e maestrine del pensiero collettivo associazioni di volontariato politici tutti chi più e chi meno con una immagine pubblica ed è proprio la politica il grado successivo di questa analisi decimo interpellanze urgenti 7 luglio 2017 camera dei deputati iniziative di competenza volte ad una più efficace tutela delle vittime del reato di stalking anche alla luce della tragica vicenda della dottoressa uccisa a Val Vibrata di Santomero in provincia di Teramo 2 01870 i sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della giustizia il ministro dell'interno per sapere premesso che Esther Pasqualuni un oncologa dell'ospedale Val Vibrata di Santomero in provincia di Teramo è stata uccisa nei giorni scorsi davanti all'ospedale alla fine del suo turno di lavoro stava andando verso la sua auto quando è stata aggredita dal killer fuggito poi secondo alcuni testimoni a bordo di un'auto l'aggressione è stata feroce l'hanno sgozzata uno spettacolo straziante hanno raccontato i colleghi a corsi attorno al corpo a terra la dottoressa ha lasciato due figli di 14 e 16 anni ad aspettarla con in mano una roncola c'era il suo assassino un delitto premeditato compiuto lucidamente nessuno ha potuto aiutare il medico che prima di finire a terra in una pozza di sangue ha chiesto aiuto il suo presunto omicida Enrico di Luca è stato trovato suicida negli ultimi anni la vittima lo aveva denunciato due volte poiché la perseguitava dopo averla conosciuta perché parente di un paziente della dottoressa Pasqualoni per stalking l'uomo dice un'amica la perseguitava da diversi anni la osservava e seguiva sempre e dappertutto si era intrufolato nella sua vita non sappiamo neanche come con artifici e raggiri non era un suo ex non avevano niente a che fare era solo ossessionato da lei ester da tempo aveva paura tanto che quasi mai terminato il turno di lavoro usciva dall'ospedale da sola alla macchina si faceva accompagnare sempre da qualcuno su facebook aveva rimosso tutte le sue foto e pare vivesse in uno stato costante di angoscia le denunce effettuate però a quanto si apprende dalla stampa erano state archiviate al fine di assicurare una più adeguata protezione alla vittima del reato in seguito all'introduzione del reato di atti persecutori il legislatore ha ravvisato l'opportunità di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive inserendo la nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa articolo 282 ter codice di procedura penale misura che pare sia stata prevista per il di Luca ma in breve revocata in questi casi occorrerebbe altresì garantire la formazione specifica interdisciplinare e capillare del personale di presidio e della magistratura inquirente la creazione di nuclei specializzati sia presso gli organi di polizia che presso gli uffici giudiziari soprattutto di procura sulla base delle buone prassi già sperimentate la definizione di linee guida o protocolli di indagine e di azione da applicarsi sull'intero territorio nazionale al fine di rendere effettiva omogenea efficace e tempestiva la tutela preventiva delle vittime e la repressione dei reati di stalking e di violenza di genere anche alla luce della gravità e della rilevanza del fenomeno l'attivazione di un registro elettronico delle denunce per stalking e violenza di genere effettuate presso la polizia giudiziaria che vada a confluire in una banca dati in rete accessibile in tempo reale da parte degli operatori coinvolti forze di polizia e magistratura presso il ministero della giustizia e il ministero dell'interno al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle iniziative e dei tempi di intervento a tutela delle vittime nonché per proporre azioni positive correttive o integrative ed eventualmente ove necessario integrazioni di organico o dotazioni di mezzi se i ministri interpellati non ritengano anche in considerazione dei fatti esposti di dover assumere ogni iniziativa di competenza per far piena luce sulla sostanziale inattività delle istituzioni nei confronti delle denunce fatte dalla donna che in seguito è stata barbaramente uccisa e se non considerino opportuno quanto urgente mettere in campo tutte le iniziative necessarie quali quelle indicate in premessa per evitare il ripetersi di tali episodi fabbri ferranti ermini dottavio gnecchi di salvo marchi montroni pagani morani casellato lenzi patrizia maestri giacobbe paola boldini malisani giovanna sanna ferrari mariani braga incerti bargero fanucci de maria pollastrini cinzia maria fontana ghizzoni giuliani carnevali cenni lattuca gasparini nardi giuditta pini presidente passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno fabbri ed altri numero 2 0 1 8 7 0 chiedo alla deputata marilena fabbri se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica si a 15 minuti a 15 minuti prego marilena fabbri grazie presidente grazie sottosegretari bubico e ferri come preannunciato dal presidente questa interpellanza prende spunto dal caso di cronaca dal tragico caso di cronaca di ester pasqualoni un'oncologa dell'ospedale valvibrata di santomero in provincia di teramo che è stata uccisa nei giorni scorsi davanti all'ospedale stava andando verso la sua auto quando è stata aggredita dal killer fuggito poi secondo alcuni testimoni a bordo di un'auto l'aggressione è stata feroce l'hanno sgozzata uno spettacolo straziante hanno raccontato i colleghi accorsi attorno al corpo a terra poi nei giorni successivi abbiamo letto purtroppo le cronache dei giornali la dottoressa ha lasciato due figli di 14 e 16 anni a tal fine auspico che anche il senato possa al più presto approvare la norma la legge sulla tutela degli orfani di crimini domestici che in questo momento è ferma in commissione giustizia ad aspettarla con in mano una roncola c'era il suo assassino un delitto premeditato compiuto lucidamente nessuno ha potuto aiutare il medico che prima di finire a terra in una pozza di sangue ha chiesto aiuto il suo presunto omicida Enrico di Luca è stato trovato suicida negli ultimi anni la vittima lo aveva denunciato due volte poiché la perseguitava dopo averla conosciuta perché parente di una paziente della dottoressa Pasqualoni per stalking l'uomo, dice un'amica la perseguitava da diversi anni la osservava la seguiva sempre e dappertutto si era intrufolato nella sua vita non sappiamo neanche come con artifici e raggiri non era un suo ex non avevano niente a che fare era solo ossessionato da lei dicono amici e conoscenti Esther da tempo aveva paura tanto che quasi mai terminato il turno di lavoro usciva dall'ospedale da sola alla macchina si faceva accompagnare sempre da qualcuno su facebook aveva rimosso tutte le sue foto e pare vivesse in uno stato costante di angoscia questo come sappiamo è lo stato di paura e di angoscia in cui vivono gran parte delle donne che subiscono atti di stalking grave con la minaccia di morte o con atteggiamenti appunto di grande ossessività e di grande interferenza nella vita privata le denunce effettuate però a quanto si apprende si appreso dalla stampa erano state archiviate al fine di assicurare una più adeguata protezione della vittima del reato in seguito all'introduzione del reato di atti persecutori il legislatore ha ravvisato l'opportunità di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive inserendo la nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa misura che pare sia stata prevista anche per il di Luca ma poi revocata in questi casi riteniamo insieme ai colleghi sottoscriventi di interpellanza ma non solo occorrerebbe altresì garantire una formazione specifica interdisciplinare e capillare del personale di presidio e della magistratura inquirente sappiamo che in questi anni diversi corsi di formazione specifici sono stati svolti nei confronti di questi operatori delle forze dell'ordine e della giustizia ma che questo non sia avvenuto ancora in modo capillare sul territorio tant'è che dalle donne ci vengono ancora denunciati episodi in cui di fronte alla denuncia diciamo si viene dissuase dal procedere riteniamo anche che sia necessaria la creazione di nuclei specializzati sia presso gli organi di polizia che presso gli uffici giudiziari soprattutto di procura che sulla base delle buone prassi già sperimentate sia necessario definire linee guida e protocolli di indagine e di azione da applicarsi sull'intero territorio nazionale al fine di rendere effettiva omogenea, efficace e soprattutto tempestiva la tutela preventiva delle vittime e la repressione dei reati di stalking e di violenza di genere anche alla luce della gravità e della rilevanza che il fenomeno sta assumendo nel nostro paese l'attivazione inoltre di un registro elettronico delle denunce per stalking e di violenza di genere effettuato presso la polizia giudiziaria che vada a confluire in una banca dati in rete accessibile in tempo reale da parte degli operatori coinvolti forze di polizia e magistratura presso il ministero della giustizia e il ministero dell'interno al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle iniziative dei tempi di intervento a tutela delle vittime nonché per proporre azioni positive correttive o integrative ed eventualmente ove necessario integrazioni di organico o dotazione di mezzi pensiamo infatti che vada definita meglio la filiera degli interventi e delle azioni che possono o debbano essere attivate in questi casi e soprattutto che non vadano lasciati soli gli operatori di polizia che si trovano a dover accogliere donne impaurite dalle aggressioni o dalla minaccia di aggressioni e che vedono appunto modificare radicalmente la propria qualità e i tempi di vita chiediamo quindi se i ministri interpellati quelli della giustizia e dell'interno e mi fa piacere che ci siano entrambi i sottosegretari anche se solo uno risponderà non ritengano anche in considerazione dei fatti esposti di dover assumere ogni iniziativa di competenza per far piena luce sulla sostanziale inattività delle istituzioni nei confronti delle denunce fatte dalla donna che in seguito è stata barbaramente uccisa e che purtroppo non riguarda solo il caso di Esther Pasqualoni inoltre se non considerino opportuno quanto urgente mettere in campo tutte le iniziative necessarie quali quelle indicate in premessa e che prima in qualche modo elencavo in termini esemplificativi per evitare il ripetersi di tali episodi e soprattutto per supportare sia le forze dell'ordine che la magistratura inquirente Presidente il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Ferri ha facoltà di rispondere Cosimo Maria Ferri sottosegretario di Stato per la giustizia Grazie Presidente Prendendo spunto da un recente caso di cronaca con l'atto di sindacato in trattazione gli onorevoli intrepellanti chiedono quali strumenti siano stati predisposti per il contrasto alla violenza di genere quali iniziative siano state assunte per garantire la specifica formazione del personale di magistratura delle forze di polizia e infine se sono ravvisabili colpevoli omissioni nella vicenda che ha portato alla morte violenta di una donna di Teramo ad opera di tale Enrico Di Luca Con riferimento al caso evocato il procuratore della Repubblica di Teramo interpellato in proposito ha comunicato che le notizie di stampa riportate anche nell'interpellanza in esame oggi illustrate non rispondono al vero non avendo mai la vittima presentato alcuna denuncia per atti persecutori consumati in suo danno secondo quanto rappresentato dalla competente autorità giudiziaria l'unico procedimento iscritto dalla procura non era stato originato da una querela o da una denuncia della vittima bensì da una segnalazione telefonica effettuata il 5 aprile 2014 dalla persona offesa ai carabinieri nel corso della quale i militari venivano informati della presenza di Di Luca Enrico che con una telecamera effettuava riprese dalla sua autovettura operato il sequestro della telecamera ad iniziativa della polizia giudiziaria successivi approfondimenti delle indagini portavano ad escludere che fossero state effettuate riprese della donna che comunque non formalizzava alcuna denuncia in considerazione dell'esito degli accertamenti ed in assenza di querela della persona offesa il procedimento penale era stato archiviato la procura di Teramo ha altresì comunicato che solo nel corso degli approfondimenti seguiti all'omicidio della signora ha accertato come su istanza presentata dalla stessa per atti persecutori il 24 gennaio 2014 il questore di Teramo in data 30 gennaio 2014 aveva emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di Enrico Di Luca con successivo ritiro cautelare delle armi dallo stesso detenute circostanza confermata dal Ministero dell'Interno Alla luce delle informazioni acquisite ed in assenza di successivi elementi o ulteriori segnalazioni della persona offesa che potessero evidenziare una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'incolumità non sembrano ravvisarsi allo Stato e salve nuove emergenze profili di colpevole inerzia da parte delle competenti istituzioni nella tutela della vittima così ricostruita la vicenda specifica preme evidenziare più in generale che il tema del contrasto alla violenza di genere occupa da sempre un ruolo prioritario per il governo per il Ministero della Giustizia e ringrazio anche il Vice Ministro Bubbico che è qui presente per il Ministero dell'Interno è evidente che di fronte a casi di questo genere a morti dovute a comportamenti violenti tutti noi si debba riflettere e capire come si possa agire di più non solo nella fase della repressione ma anche in quella della prevenzione proprio per evitare questi comportamenti quindi il punto è quello di fornire mezzi a tutte le autorità di creare una rete e cercare davvero di tutelare la persona offesa anche in sede preventiva per evitare questi tragici episodi di fronte ai quali è chiaro c'è dolore forte dolore e il primo sentimento è quello di unirci anche a tutti i familiari delle vittime quindi questo è il punto del resto c'è una sentenza della cedu di pochi mesi fa che introduce un obbligo impositivo da parte dello Stato proprio di intervenire in sede di prevenzione per evitare la morte anche la cedu ha fissato di nuovo un principio forte che tutti gli stati sono tenuti a rispettare e sul quale devo dire il nostro paese ha fatto molto farà ancora molto ma siamo davvero fra i paesi che in Europa più lavorano su questi temi e tutta una serie di interventi che sono stati decisi danno atto dell'impegno non solo del governo ma di tutto il Parlamento il nostro ordinamento soprattutto negli ultimi anni si è infatti progressivamente affinato grazie a numerosi interventi legislativi che hanno rafforzato gli strumenti di tutela per le vittime in particolare si è intervenuti sull'articolo 612 bis del codice penale adeguando i limiti di pena alla gravità del fatto e rendendo applicabile ai responsabili ove ne ricorrano le condizioni anche le più gravi misure cautelari personali Ricordiamo tutti l'intervento normativo in tema di custodia cautelare in carcere approvato da questo Parlamento e anche l'applicazione di questa misura ai reati di cui all'articolo 612 bis quando si parla di custodia cautelare in carcere Sempre sul versante processuale si è intervenuti escludendo il reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto Nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema di tutela sempre nel 2013 sono state introdotte misure di prevenzione quale l'ammonimento finalizzato all'anticipazione della tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica tale strumento preventivo è stato diffusamente applicato come emerge dai dati comunicati dal Ministero dell'Interno e nel periodo 2011-2016 sono stati emessi complessivamente 6.400 provvedimenti In questa sede desidero ringraziare tutti i questori, i funzionari e il personale della Polizia di Stato che lavora su questi provvedimenti e quindi rende efficace anche la tutela preventiva con queste misure che sono state introdotte normativamente Ulteriori prospettive su tale fronte si aprono con il progetto di riforma del codice antimafia attualmente in discussione in Parlamento che prevede tra l'altro l'applicazione anche ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori delle misure di prevenzione personali più incisive Sempre l'obiettivo di tutelare i soggetti più deboli ha ispirato ulteriori recenti iniziative normative del Governo attraverso le quali si è inteso delineare un vero e proprio statuto delle persone vulnerabili attraverso una disciplina generalizzata per la protezione, l'assistenza e la tutela di ogni persona offesa dal reato in attuazione della direttiva vittime di reato il decreto legislativo numero 212 del 15 dicembre 2015 in vigore dal 20 gennaio 2016 ha infatti apprestato un adeguato apparato difensivo per tutte le vittime di reato soprattutto le più vulnerabili Sistema ulteriormente affinato con l'adozione del decreto legislativo numero 122 del 2016 che ha istituito un fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti e tra l'altro su questo fondo occorre precisare che nella legge europea anche in corso di discussione reinterverremo e cercheremo di sanare una questione che si è creata da quando far decorrere la possibilità di accedere al fondo e quindi si farà anche per tutto quello che è antecedente al 2005 si fissa e si retrodata anche la tutela perché c'era un vuoto normativo così come sempre sul fondo di rotazione stiamo lavorando insieme al Parlamento per cercare di eliminare i limiti di reddito e quindi c'è un emendamento anche in questo senso alla legge europea il Ministero della Giustizia col MEF sta cercando di eliminare anche questi limiti e quindi di rendere ancora più accessibile il fondo di rotazione alle vittime così come le altre novità normative con la legge stabilita del 2017 abbiamo riconosciuto un serio ristoro e quindi non un maggior ristoro ma un serio ristoro al doppiamente orfani a carico del fondo vittime e sono in corso di approvazione i decreti ministeriali giustizia e MEF c'è poi la proposta di legge sugli orfani di crimini domestici che è al Senato in commissione e tutto quello che riguarda anche le garanzie patrimoniali che devono essere adeguate per le vittime con sequestro chiesto dal pubblico ministero per i beni dell'omicida quindi tutti i provvedimenti sui quali stiamo lavorando per tenere alta l'attenzione e dare una risposta efficace sono state inoltre adottate azioni specificatamente volte ad incoraggiare le vittime vulnerabili e soprattutto le donne a denunciare i reati consumati il loro danno anche l'esperienza di Teramo lo insegna dalla ricostruzione che ci ha fatto il procuratore della Repubblica ci fu una telefonata finalizzata alla telecamera che fu prontamente sequestrata ma poi non fu presentata una denuncia dalla signora almeno questo risulta da quello che ha detto il procuratore questo deve far riflettere perché noi dobbiamo cercare di intervenire per tutelare la vittima e anche nel momento e nei primi segnali di pericolosità di alcuni comportamenti da parte della vittima noi dobbiamo aiutare le donne in difficoltà dobbiamo proteggere dare loro degli strumenti per anche incoraggiarli a rivolgersi alla rete ai centri di ascolto all'autorità giudiziaria alle forze di polizia sempre più specializzate in particolare merita di essere ricordata l'adozione generalizzata del progetto Codice Rosa Bianca che già in corso di sperimentazione con il patrocinio dei ministeri della giustizia e della salute e con la cooperazione istituzionale tra ASL, Forze di Polizia e Procure della Repubblica intende assicurare un accesso privilegiato alle cure sanitarie di quanti abbiano subito maltrattamenti ed abusi Con il medesimo obiettivo di delineare un sistema di tutela ad ampio spettro che abbia una connotazione multidisciplinare e che non si esaurisca nella sola risposta repressiva come la specificità dell'odioso fenomeno della violenza di genere impone è stato adottato con DPCM del 7 luglio 2015 il piano d'azione straordinario finalizzato alla prevenzione del fenomeno in tale ambito è prevista una capillare rete informativa tra forze dell'ordine presidi sanitari e istituzioni pubbliche è stato istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri dipartimento delle pari opportunità un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori per un servizio di pronta e prima assistenza psicologica e giuridica presso l'arma dei carabinieri è prevista un'apposita sezione con competenze specifiche e sono stati inoltre istituiti i fondi di solidarietà a livello territoriale e sportelli di tutela particolare attenzione è stata poi riservata al tema della formazione e quanto al personale della magistratura diversi uffici giudiziari requirenti tra i quali la stessa procura della Repubblica di Teramo hanno istituito gruppi di lavoro specializzati nella tutela delle fasce deboli inoltre la scuola superiore della magistratura assicura ormai da tempo periodiche attività formative e di approfondimento della materia in discussione quanto alle forze dell'ordine sono da tempo operative ringrazio davvero di nuovo l'arma dei carabinieri la polizia di stato e tutte le forze dell'ordine impegnate in questo settore unità specificamente dedicate alla lotta contro questa forma di criminalità ed è stata altresì intensificata la formazione multidisciplinare degli operatori il complesso delle iniziative illustrate testimonia la costante effettiva attenzione riservata alla violenza di genere e anche in questa sede preme dissipare ogni dubbio sul tema che in questi giorni ha agitato il dibattito pubblico circa un presunto indebolimento del sistema delle tutele a seguito dell'approvazione della legge di riforma del processo penale la strada è quindi quella dell'attenzione della determinazione di fare passi in avanti e non indietro su una materia che interessa tutti che davvero si dia un segnale di sicurezza alle tante donne non solo vittime ma anche a tutte quelle donne che sono vittime e la loro vulnerabilità non emerge a volte anche per paura di denunciare la paura di parlarne con qualcuno il fatto di voler tenere nascoste alcune sofferenze quindi diamo voce a tutte queste persone che hanno bisogno di un intervento forte dello Stato Presidente la deputata Fabri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza le ricordo che ha 10 minuti marilena fabbri grazie presidente grazie sottosegretario ferri per la sua risposta particolarmente circostanziata e puntuale condivido il fatto che in questi anni grandissimi passi in avanti sono stati fatti sul piano normativo proprio per contrastare anche dal punto di vista culturale questo odioso fenomeno credo che alcune criticità permangano la prima è quella che nonostante le azioni messe in campo che lei ricordava sia di formazione che di costituzione di sezioni speciali anche presso i carabinieri o presso la magistratura ci sia ancora nelle donne una percezione di insicurezza quindi dico percezione magari appunto che non corrisponde al vero in moltissimi casi che poi porta a non denunciare come è stato evidenziato in questo caso quindi ancora un grandissimo lavoro è sicuramente da fare rispetto al fatto di divulgare che l'atteggiamento delle nostre istituzioni presenti capillarmente sul territorio è letteralmente diverso da quello che è stato nel passato che c'è un atteggiamento di accoglimento e di accoglienza di chi denuncia ai diversi livelli e tipologie di istituzioni a cui ci si rivolge e che è necessario denunciare per ricevere protezione purtroppo ancora molte donne ritengono che denunciare determini un peggioramento della loro situazione di persecuzione e non l'apertura di una porta di tutela di protezione e di uscita da un incubo quindi credo che su questo noi dobbiamo ancora lavorare nella nostra interpellanza infatti indicavamo alcune azioni positive proprio perché pensiamo che sul piano normativo sia stato fatto tantissimo moltissimo per tutelare le vittime tutte non solo quelle di violenza le ricordava i decreti legislativi conseguenti alle direttive europee ma che sia assolutamente necessario monitorare che poi queste norme trovino effettivamente applicazione e che chi è demandato a offrire accoglienza e tutela alle vittime di stalking e di violenza domestica abbia effettivamente tutti gli strumenti a sua disposizione per farlo sia in termini di personale di personale formato e anche eventualmente di azioni che ad oggi non abbiamo pensato ma che potrebbe essere invece necessario mettere in campo a tutela delle vittime di stalking e di violenza proprio per evitare che poi si trasformino in violenza o in violenza domestica per il momento la ringrazio e mi ritengo soddisfatta delle risposte e delle azioni che saranno messe in campo un decimo la nebbia non si limita a disorientare a smussare i contorni fino a quasi a renderli intangibili o inconsistenti la nebbia tocca le parole il linguaggio i codici la comunicazione umana e quando il linguaggio e le azioni della politica producono parole incerte ambigue vacillanti e caduche a prescindere e con buona pace del rigido schema burocratico istituzionale che tutte le racchiude la nebbia restituisce nebbia alla nebbia nella creazione di un tempo ciclico in cui tutto ritorna e in cui tutto è destinato a disperdersi il 7 luglio 2007 è stata discussa presso l'aula della camera dei deputati a palazzo montecitorio in roma una interpellanza parlamentare a firma degli onorevoli marilena fabbri partito democratico ed altri recante nella fredda e distaccata epigrafe titolativa iniziative di competenza volte a una più efficace tutela delle vittime del reato di stalking anche alla luce della tragica vicenda della dottoressa uccisa a valvibrata di sant'omero in provincia di teramo la si legge di fretta la si dà preacquisita e poi si prosegue senza dare più valore alle parole contenute senza guardarle senza porsi delle domande senza trattenere alcun moto di vigilanza critica e c'è una parola che più di tutte contribuisce a rendere sempre più incerto l'orizzonte nebuloso che nessuno avrebbe potuto mai ricondurre a chiarezza ed è la parola anche togliendola il significato non risulterebbe minimamente stravolto né modificato anzi assumerebbe una carica di valore supplementare e determinante perché indicherebbe che l'omicidio di Esther è stato origine e motore immobile della discussione nelle istituzioni scrivere invece che le iniziative di competenza siano state sollecitate anche alla luce della morte della dottoressa uccisa significa o quanto meno si può intendere che l'omicidio è fattore se non secondario certamente accessorio in breve c'è oltretutto quel fattore a sollecitare il dibattito ma la morte di Esther non è un anche è il fulcro del funzionamento del sistema politico e sociale che dimostra che nessuno né il Parlamento né l'amministrazione della giustizia né la stampa periodica né la rete né i social media che della rete fanno parte né chiunque altro hanno mai saputo stabilire una verità processuale o fattuale che essa fosse e invocare giustizia non significa mai ottenere verità significa al contrario invocare un sistema astratto e perfetto facendolo coincidere su ciò che è concreto ma che perfetto non è questo è il corto circuito che prova il blackout e nebbioso incerto e deficitario è tutto il contenuto dell'interpellanza così come riportata dai resoconti stenografici di montecitorio l'uso di espressioni rinvenibili fin dal primo paragrafo dell'intervento della deputata interrogante quali secondo alcuni testimoni nei giorni successivi abbiamo letto dice un'amica a quanto si apprende misura che pare sia stata prevista mancano le fonti di prima mano riportare quanto a sua volta riportato da altri è un'operazione piuttosto comune e frequente tra i giornalisti gli scrittori biografi i saggisti i reporter i conduttori televisivi nello studio e nella vita domestica in generale ma lì si trattava di uno dei luoghi e dei contesti più alti dello stato assai puntiforme appare inoltre il richiamo alla segnalazione di inerzia del senato in merito all'approvazione di una normativa bloccata in commissione giustizia la legge sulla tutela degli orfani di crimini domestici e l'interpellante lo fa richiamandosi all'età dei figli rilasciati dalla vittima anche qui è possibile riscontrare con facilità una discrasia tra il dato riportato nel testo e quanto riferito dagli organi di informazione tuttavia si tratta di un elemento secondario quello che rileva è che questo elemento venga assunto per sollecitare un intervento legislativo su una materia del tutto avulsa dal caso in questione nessun cenno al padre divorziato dei figli di Esther nessun accenno al fatto che il delitto per quanto è ferato ha avuto luogo in un contesto del tutto diversificato da quello domestico se vi è stata come vi è stata una grave continua e pervicace azione di invasione della sfera intima familiare privata della dottoressa non si può dire che questa sia avvenuta nello stesso ambiente e per gli stessi requisiti della norma per la quale si sollecita la definizione da questa osservazione occorre spingersi fino all'osservazione della contaminazione del fatto delitto con la parola femminicidio ad opera soprattutto sia della stampa che degli organismi di volontariato a tutela delle vittime per i reati di stalking va detto in primo luogo che il termine femminicidio esiste certamente ma che non fa riferimento né tantomeno costituisce ipotesi di reato a sé si tratta di un conio lessicale che è stato inserito dagli italoparlanti per designare un reato commesso ai danni di una donna e per motivi futili e abbietti posto in essere da un soggetto di sesso maschile che abbia o che abbia avuto una relazione affettiva o di intimità con la vittima possibilmente conseguente al rifiuto di essa di allacciare ex novo o riallacciare con l'aggressore un rapporto sentimentale o proseguirlo ma questo termine è presente descritto e definito nei vocabolari e nei dizionari della lingua italiana non sul codice penale dove le circostanze esemplificate hanno valori di aggravanti specifiche e possono portare anche qualora ritenute prevalenti sulle attenuanti generiche o specifiche concesse e riconosciute alla pena dell'ergastolo ed esiste una differenza quantomeno essenziale e sostanziale tra un vocabolario e un testo di legge e ci si riferisce qui alla tipologia dei testi non alle loro differenziazioni stilistiche ed espressive la risposta dell'allora sottosegretario di stato per la giustizia successivamente la denominazione viene leggermente variata in per la giustizia Cosimo Maria Ferri facente parte dell'esecutivo presieduto da gentiloni è fredda distaccata e contraddistinta da un tono piuttosto tranchant ma non dissipa le nebbie anzi ne amplifica densità e spessore rivolgendosi all'interpellante Ferri parla di vicenda che ha portato alla morte violenta di una donna di Teramo ad opera di tale Enrico di Luca per cui il medico oncologo oggetto della violenta uccisione non viene neanche nominata con nome e cognome il suo assassino sì anche riportato con la qualificazione di tale ma ciò che riconduce l'orizzonte nel limbo dell'incertezza e della fumosità è l'affermazione che recita che le notizie di stampa riportate anche nell'interpellanza in esame oggi illustrate non non rispondono al vero non avendo mai la vittima presentato alcuna denuncia per atti persecutori consumati in suo danno e qui rientra in gioco la differenza tra esposto denuncia e querela non vi sono dubbi che un atto giudiziario è stato presentato alle autorità da parte di ester tuttavia non ha comportato conseguenze penali di alcun tipo a parte l'apertura di un fascicolo successivamente archiviato in quanto mancava l'esplicito atto di querela ma non si può e non si deve dire che un atto firmato non esista e non sia mai esistito come sembra chiosare ferri nella frase successiva secondo quanto rappresentato dalla competente autorità giudiziaria l'unico procedimento iscritto dalla procura non era stato originato da una querela o da una denuncia della vittima bensì da una segnalazione telefonica effettuata il 5 aprile 2014 si tratta di frasi sconcertanti se l'unico procedimento iscritto è scaturito da una segnalazione telefonica nell'aprile 2014 come è possibile che tre mesi prima sia stato emesso un provvedimento ammonitorio peraltro perfettamente citato da ferri a carico di Enrico De Luca e se ciò è stato possibile sulla base di quale elemento inatti alla luce delle informazioni acquisite ed in assenza di successivi elementi o ulteriori segnalazioni della persona offesa che potessero evidenziare una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'incolumità non sembrano ravvisarsi allo Stato e salve nuove emergenze profili di colpevole inerzia da parte delle competenti istituzioni nella tutela della vittima chiosa ancora il sottosegretario Ferri per lasciare le ultime parole alla prima interpellante la ringrazio e mi ritengo soddisfatta delle risposte e delle azioni che sono state messe in campo due decimo la morte del reo avvenuta prima della condanna estingue il reato articolo 150 codice penale la morte dell'imputato intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza comporta la cessazione sia del rapporto precedente processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate ex legge senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale Cassazione penale sezione terza numero 5870 del 15 febbraio 2012 ultimo l'allora capo della polizia franco Gabrielli al momento dei fatti dichiarò questa vicenda per noi è una grande sconfitta l'imperativo è la sollecitazione a tenere alta l'attenzione su queste vicende le vittime devono essere i soggetti primari della nostra attività soprattutto nei reati di genere e inoltre questi comportamenti hanno una gamma di modalità che possono portare anche a situazioni tragiche ma non è che possiamo incarcerare tutti gli stalker per concludere con una lettera riportata dalla testata giornalistica Huffington Post e indirizzata all'Espresso caro direttore ho letto l'articolo dal titolo ho solo sparato a mia moglie che si chiude con una frase attribuitami mica possiamo incarcerare tutti gli stalker ebbene tale citazione è stata estrapolata peraltro neanche in modo fedele da un più ampio discorso a margine del convegno la vittima al centro tenuto di recente presso la scuola superiore di polizia proprio per ribadire che le vittime devono essere i soggetti primari della nostra attività soprattutto nei reati di genere lo stesso take di agenzia da cui in maniera infedele è stata estrapolata la frase citata era una sintesi di un ragionamento più complesso come certi argomenti imporrebbero ma volendo limitarci all'agenzia di stampa era facile se solo lo si fosse voluto comprendere il senso del mio pensiero infatti è stato riportato oggi ci sono strumenti come l'ammonimento l'allontanamento che prima non c'erano ma che in alcune situazioni come quella nel terramano non sono stati sufficienti purtroppo prosegue l'agenzia questo può accadere questi comportamenti hanno una gamma di modalità che può portare anche a situazioni tragiche ma non è che possiamo incarcerare tutti gli stalker infine ho esortato alla prevenzione soprattutto di natura culturale perché fino a questo molti maschi considerano le donne come oggetto come proprietà questo inevitabilmente dà luogo a queste situazioni dunque un concetto ben diverso da quello che la frase pubblicata nell'articolo del tutto sconnesso dal contesto in cui è stata formulata lascia intendere mi consenta di osservare che questa modalità di estrapolazione oltre a manipolare pericolosamente la rappresentazione di un fenomeno del quale ho ampiamente illustrato la complessità si presta ad interpretazioni che possono svalutarne l'emergenza e costituisce un oltraggio a tutte quelle donne che possono trovare il coraggio di denunciare i loro persecutori e alle stesse istituzioni che senza sosta operano per accoglierle e proteggerle caro direttore questo è il mio pensiero e spero che lo pubblichi senza estrapolazioni Franco Gabrielli capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza Exeunt I funerali di Esther Pasqualoni sono stati celebrati il 24 giugno alla presenza di oltre 500 persone applaudenti le esequie di Enrico Di Luca si sono svolte in forma privata lo stesso giorno la morte del compagno di Esther Fabrizio è stata definita come conseguenza di un infarto cardiaco Enrico Di Luca si è suicidato con una fascetta di plastica autorestringente impiccandosi alla spalliera del letto della sua abitazione di Villa Rosa di Martinsicuro L'Avvocato Caterina Longo ha proseguito la sua attività politica nella Lega Nord L'ex capo della polizia Franco Gabrielli ha ricevuto nel 2016 l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nell'anno successivo quello di Cavaliere Grande Ufficiale dell'Ordine di Sant'Agata Repubblica di San Marino è cittadino onorario di undici comuni italiani Nel 2021 è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Draghi con delega alla sicurezza della Repubblica L'ex marito di Esther Gaetano Sciamanda è stato stroncato nel 2023 da un infarto all'età di 63 anni i figli degli ex coniugi sono diventati maggiorenni la proposta di intitolare a Esther Pasqualoni l'ospedale di Sant'Omero dove lavorava e ha trovato la morte non è mai stata realizzata la salma di Esther Pasqualoni riposa nel cimitero di Teramo è una storia da carabinieri è una storia per parrucchieri è una storia un po' sputtanata o è una storia sbagliata ringraziamenti questo libro non sarebbe nato senza il contributo determinante i consigli e l'incoraggiamento della persona a me più cara al mondo che più che leggerlo e rivederlo lo ha portato in grembo la piattaforma Draft2Digital mi ha permesso di farlo venire alla luce negli Stati Uniti e di curarne la distribuzione in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea senza richiedermi un solo centesimo che non fosse destinato alla copertura delle spese vive di stampa e di fornitura ai rivenditori finali limitandole attraverso il cosiddetto print on demand al numero di copie strettamente necessario a soddisfare le richieste dei lettori che ne sono sicuro non saranno particolarmente numerose personalmente non riceverò neanche mezza lira dalle vendite di questo volume i proventi derivanti o derivati dalla distribuzione della versione in audio libro e dei book di imminente uscita così come tutte le cifre eccedenti la gratuità e costituenti proventi da diritto d'autore qualora si sia resa utile o obbligatoria la loro quantificazione per permetterne maggiore e più capillare diffusione verranno interamente devoluti ad associazioni a scopo benefico del terzo settore a scopo la 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 la